Perdere le chiavi è una cosa che succede molto spesso. Recentemente ero in motorino e sono andato a fare un giro in motorino qui in collina vicino a casa con un'amica e suo marito e sua figlia. Abbiamo parcheggiato il motorino e poi abbiamo fatto una passeggiata un po' in collina. Quando volevo tornare a casa arrivo al motorino e cerco nelle tasche, nei pantaloni, cerco in tutti i posti e non trovavo le chiavi del motorino. Allora ho guardato un po' in giro per terra, sulla strada e non ho visto le chiavi da nessuna parte. Allora ho chiamato al telefono Donato che abita in casa con me e ho detto Donato ho perso le chiavi del motorino, però ho un paio di chiavi di riserva in camera mia. Vai in camera mia, apri il primo cassetto della scrivania e lì ci sono le chiavi di riserva del motorino e poi se puoi venire a portarmele sono qui vicino a casa in collina. Allora Donato ha preso le chiavi, ha preso il motorino, il suo motorino è venuto dove ero io, mi ha dato le chiavi e quindi sono tornato a casa con le chiavi di riserva. Quindi è molto importante avere sempre delle chiavi di riserva e soprattutto sapere dove sono.